La sicurezza durante le manifestazioni sia in ambito alimentare che come normativa anti-incendio. Si sono riuniti con l'intento di approfondire queste tematiche i volontari delle proloquo aderenti al Comitato Provinciale UMPLI presso la Palazzina Sabatelli di Sant'Ippolito nella mattinata di oggi. Il Comitato Provinciale UMPLI di Pedro Rubino, Unione Nazionale del Proloquo d'Italia, annuncia questo importante incontro di formazione per le proloquo inerente alla sicurezza sia dal punto di vista delle normative che ci sono per le varie manifestazioni che succede ad un altro corso che abbiamo fatto durante l'estate sull'igiene alimentare e quant'altro, ripeto, durante le manifestazioni che le nostre proloquo fanno in tutta la provincia. Naturalmente cerchiamo di specializzarsi il più possibile evitando errori e soprattutto avendo un partito di relatori eccellente. La nostra volontà è quella di aiutare i nostri volontari, le nostre proloquo a non incappare in errori che possono portare il danno ai nostri utenti, ai turisti ma anche il danno a noi stessi perché nel momento in cui accadesse qualcosa ci troveremo sicuramente, ci troverebbero sicuramente in difficoltà e la festa, chiamiamola la festa della proloquo, cadrebbe con quell'errore perché la mancata professionalizzazione e professionalità non l'hanno ricevuta e noi vogliamo coprire questo buco.